Sicuramente il significato di aver chiuso bene questo campionato con una prestazione positiva, con un risultato positivo e di conseguenza con un atteggiamento positivo che è quello che abbiamo sempre cercato di mettere in tutte le volte che siamo scesi in campo e quindi era secondo me giusto, come abbiamo sempre detto, onorare l'impegno, onorare la maglia, onorare quelli che sono questi colori dal primo minuto fino all'ultimo anche all'ultima giornata, poi in alcune circostanze non ci si riesce però sotto l'aspetto dell'impegno, della dedizione, della volontà il Toro non può mai sbagliare la partita.